Signore e signori, Gino Paoli! Questa sera nei panni di scrittore, perché ha scritto per Bonpiani Cosa farò da grande? I miei primi 90 anni. Eccolo qua. Allora, io l'ho divorato. L'ho divorato. Non ho capito perché ti sei vestito da capo... Chiamarlo una vita spericolata, però c'è già qualcosa in giro. Tu l'hai usato, nel finale di Quattro Amici al Bar hai usato Vita Spericolata. Non l'ho capito. Nel finale di Quattro Amici al Bar hai usato proprio Vita Spericolata. Sì. Me lo ricordo. Senti, ma perché ti sei vestito da capo indiano in questa foto? Quella è una roba di una giornata matta, con Red Ronny e qualche fotografo. Praticamente mi sono sbagliato in mezzo a una strada, ho dormito dentro, cioè anche in questo servizio, ho dormito dentro la vasca da bagno e c'era questa copricapo degli indiani e mi hanno fatto la fotografia col copricapo degli indiani. E dato che il libro si chiama Cosa farò da grande? Eh, da grande probabilmente farò l'indiano. Allora, Gino, che io ho la fortuna di conoscere da tanto tempo, diciamo una delle persone più schiette che io conosca, più sincere e più schiette. E lo è anche questo libro, a parte molto spassoso e anche intenso a tratti naturalmente. L'hai letto? Certo, tutto. Sono contento. Tu l'hai letto? No. No, ecco allora. No, no. No, no. No, leggilo perché è venuto proprio bene. Ma io non sento mai i miei dischi e non leggo mai quello che scrivo. No, capisco, però... Dici che devo leggerlo? Ma secondo me ti diverti. È diverso? Secondo me ti diverti, sì. Ma sai, lì c'è citata un sacco di gente che... Purtroppo... Sì, però c'è anche gente che c'è ancora. No, l'età. Sì? L'età... Cioè io, i prossimi che compio sono 90 anni. Eh. Non sembra, eh? No, non sembra. Bello come il sole. Però... È vero. No, sapete cosa dice nel libro? Nel libro dice, 90 anni, che voleva comprarsi la Porsche, ma sua moglie gliel'ha vietato. Sì. La fine l'hai comprata o no? La fine l'hai comprata o no la Porsche? O tua moglie te l'ha vietata? No, ma lì è stato dentro un albergo di Roma. Cioè? In questo albergo io ho comprato una foca. Sì? E l'ho portata in albergo. No, quella è la foca. No, ma io dico la Porsche, la macchina. Tu volevi comprarti la Porsche. Sì, ma mia moglie non va. Appunto, non te la... No. Niente Porsche. Perché ha detto che non sai guidare. Chi l'ha detto? Tua moglie. Dice che non sai guidare e che hai messo la gomma più una in garage. E non la smettila. Nel libro. C'è scritto qua. Non è chi la chiama. Ma l'hai scritto qua, eh. Guarda che la chiama. No, guarda che adesso arriva Ornella. Non facciamo cose. No, no. La chiama lei che è peggio di Ornella. Ma ha detto Ornella che si sentono sempre loro due. Sì. Perché tu non rispondi. No. Vabbè però. È un libro pazzesco. Scusa, la foca invece raccontiamo della foca. Ma niente. Ho comprato una foca da un amico che aveva un negozio di animali. Sì. E l'ho portato in albergo. A Roma. Non mi ricordo l'albergo cosa fosse. Comunque ho riempito la vasca da bagno e lei viveva nella vasca da bagno. È tutto vero, eh. Finché il proprietario dell'albergo mi ha detto, Gino ti prego, le foca in albergo no. Allora sono tornato da questo amico, l'ho cambiata con due pinguini. Dopo anni, dopo diversi anni ho rincontrato questo signore che era il portiere dell'albergo a Bologna. E quando mi ha visto arrivare ha detto, sei solo? Cosa farò da grande, no? A parte che è il racconto dell'Italia perché si va dalla guerra ai giorni nostri e attraverso la vita di Gino, come sempre capita con gli artisti, si rivive la nostra vita, no? Si rivive, la vita degli artisti fa da sottofondo alla vita di tutti noi, in particolare di un musicista. Quelle canzoni, una volta che esistono, diventano anche nostre e quindi ci ricordano momenti nostri, non soltanto suoi. Ma dicevo della schiettezza di Gino Paoli. Per esempio, lui racconta che lui non ha nessun interesse per i premi, per i trofei, per quello che vince. Tant'è che, hai scritto nel libro tu, che c'è un fosso, un fosso fuori Roma, nel quale lui ha scaricato tutte le targhe e le coppe che ha ricevuto in carriera. Solo che ogni volta che vai ce n'è qualcuna in meno. Quindi c'è qualcuno che le prende. Ma dov'è questo fosso? Così lo diciamo, andiamo a vedere. Ci sono dei metri di giudizio, con il mio factotto, impresario, amico, fratello, quello che è. Quando ci danno i premi di vario tipo, i premi sono da una donnina mezza nuda, alta così, in piedi, con sopra un vaso da notte, per esempio. Allora noi decidiamo, quelli da poter tenere eventualmente, perché non sono troppo vergognosi, e gli altri quando passiamo di lì, li buttiamo lì. E il nostro archivio, tra pareti lo diciamo anche, quando ci danno questi premi, diciamo in archivio. Quindi da oggi sappiamo cos'è l'archivio. Qual è il più brutto che hai ricevuto? Il più brutto? E il più brutto è una donnina che deve essere di ferro, non lo so di che cosa piffero è. Brutta come la fame. Io con un vaso sopra così. E quello lì col vaso da notte? No, quello in gabinetto ci tengo lo spazzolino del gabinetto. Senti, tu dici nel libro che è meglio non conoscere gli artisti perché hanno spesso un brutto carattere. Tu dici un'altra cosa, però insomma il senso è quello lì. No, quando ho conosciuto degli artisti, adesso nomi ne posso fare quanti ne vuoi. No, ma lasciamo stare che si offendono. Per la volta che faccio un nome mi denunciano. No, no, si offendono poi per carità. Allora, tra parentesi, quella cosa lì che è successa al Festival di Sanremo. Io volevo parlare di Little Tony. Non facciamolo di nuovo, se no ti ridenunciano. Faceva tenerezza a Little Tony. Era di un candore meraviglioso. Lo ricordo bene. Per cui lui, quando tornò con me dal Cantagiro, praticamente ha scoperto che la ragazza di allora, che io non so chi fosse, la ragazza di allora gli aveva fatto le corna qua e là. Sì. Lui ha preso la macchina, naturalmente il Jaguarè, perché solo quello ha sempre avuto, e è arrivato a Viareggio, dove io lavoravo alla bussola, per chiedermi come si deve comportare quando la donna che hai ti tradisce. E tu cosa gli hai detto? Io gli ho detto, guarda, ho scritto una canzone che si chiama anche se te la vai a sentire. E non se ne fai più. Non la fai più, va bene. Chiarito. Ma andiamo, abbiamo il... Un minuto di pubblicità. Ma andiamo ora, un minuto. Un minuto. Gino Paoli, cosa farò da grande? Non perdetevi quest'autobiografia che Gino Paoli definisce il libro degli errori. Lui dice, a me dei successi non interessa niente. Qui racconto tutto quello che ho sbagliato, che è più interessante e più divertente. Io credo che un uomo vale per gli errori che ha fatto, non per altre cose. Anzi, la saggezza di un uomo dipende solo dagli errori che ha fatto. Delle cose giuste non ci sta giusto. Però col tempo ti sei addolcito. Adesso ti fai chiamare nonno dei tuoi nipoti. Prima era vietato. No, mi faccio chiamare solo da uno. C'ho un nipote, c'ho diversi nipoti, ma ce n'è uno che è dolcissimo. Ed è uno, un bambino, adesso ha 12 anni, ma è sempre stato gentile in una maniera... Cioè, i bambini gentili, non c'è nessuno, non ci sono i bambini gentili. Lui ti chiama nonno e gli altri no. Lui mi può chiamare nonno e basta. Tra parentesi, la famiglia purtroppo, purtroppo dico purtroppo, c'ho un nipote che è figlio di Amanda che è un sissato, è un pianista che è già avanti tre generazioni e il resto non gli frega di niente fuori dalla musica. E l'altro, questo di cui stiamo parlando, che anche lui mette le mani sul pianoforte, sembra nato per quello. Da chi avranno preso? Da chi avranno preso? Beh no, mia madre voleva che studiassi il pianoforte e veniva una signora vecchia, che non so se fosse vecchia realmente. A te sembrava vecchia? Quando avevo 12-13 anni lei era vecchia. Certo. Allora, questa signora era vecchia e mi faceva imparare a suonare il pianoforte. Io non ne volevo sapere, non mi fregava niente. Però c'avevo e c'ho un orecchio pazzesco. Per cui, quando lei mi diceva adesso fai questa cosa, io l'ho sentita, non la leggevo mica. La rifacevi? La facevo e basta. Come Mozart. Eh sì, a memoria. Allora, Gino ha scritto dei capolavori assoluti, canzoni che si dice sempre, non si sa da dove arrivano queste ispirazioni. Una piccola cosa ve la posso dire anche io, secondo me, perché poi nel libro si racconta. Alcune canzoni arrivano dal vero mestiere di Gino, non che la musica non lo sia, ma diciamo da quello precedente, che è quello del pittore. Perché alcune canzoni di Gino, provateci, si possono proprio vedere. Ci sono delle canzoni che si possono vedere. La gatta, prima di tutto. La gatta è un dipinto, nel libro ci sono molti disegni anche di Gino. Beh, ha finito di fare il pittore. Appunto, ancora lo fai. Guardate, ma la gatta è proprio un quadro, è una canzone che descrive una scena. Una soffitta tremenda, gli devo la vita, come... Come racconti nel libro, quel disco ha venduto, la prima volta che è uscito, 114 coppie. Di meno, di meno. Meno di 100. L'ho comprato io, mia mamma sicuro, un altro paio di persone vanno... Poi trovò la sua strada e divenne un successo. È stato un disco lanciato dai jukebox. Pensa a te. Pensa che è strano. Cioè, il disco è uscito e ha venduto effettivamente due o tre dischi, insomma. Però d'estate non entravi in nessun posto, sai, nei bagni che c'era il jukebox. Certo. Non c'era un posto dove non si sentisse quello. E quella gatta, Ciacola, che tu racconti nella canzone, ti ha salvato la vita due volte. Tu dici, una perché è il successo che ti ha dato con la canzone, ma l'altra perché è svenuta un giorno. E beh, perché io stavo in una soffitta a bocca d'asse sul mare, dove non c'era riscaldamento e non c'era climatizzatori. Cioè, faceva un caldo boia d'estate e un freddo boia d'inverno. E allora avevo uno di quegli affari tremendi con la bombola, che è presente, che si usava tanti anni fa. E che era quasi sempre acceso, solo che a un certo punto la gatta viveva qua. Sulle tue spalle. Sulle mie spalle viveva. Tant'è vero che quando d'estate io prendevo il sole sul terrazzo, con la gatta ero sempre bianco qua. Qui ero bianco. C'era sempre lei attaccata. E' svenuta la gatta? La gatta scende da me, scende, non so se voleva andare a far pipì, non lo so, e dà una pacca per terra. Allora io prendo, la prendo su, subito bene sta. La rimetto giù, dà un'altra pacca per terra. Capito subito, ho chiuso. La bombola del gas che si stava riempendo dalla stanza di gas e quindi la gatta due volte ha salvato Gino. Carriera professionale. Nel libro ci sono racconti molto spassosi che riguardano Paolo Villaggio e anche Luigi Tenco. Naturalmente c'è il tragico finale, ma c'è anche molto divertimento. Io non sapevo per esempio che Gino e Luigi Tenco fossero due rocchettari. Noi? Eh. I diavoli del rock'n'roll. I diavoli del rock'n'roll ci chiamavano. Lui e Luigi Tenco. Eravamo io, Luigi, Bruno. Bruno Lauzzi. Però aveva il bassetto, non il basso, perché il basso non ci arrivava. Allora avevamo studiato un bassetto per lui. Poi c'erano i reverberi, insomma, erano tutti amici. È una storia meravigliosa. È una volta racconta di una sera in Liguria dove vanno a suonare lui e Tenco con la band e eseguono per 17 volte lo stesso brano, perché non ne avevano... Sax cantabile. Sax cantabile, perché non ne avevate altri. E cosa ti hanno detto dopo? No, non è che non ne avevamo altri. Avevamo un repertorio pazzesco, perché ognuno di noi cantava 10 e 20 canzoni. Però siamo arrivati che il impianto è schiattato, quindi non potevamo cantare. E quindi c'era soltanto Luigi che suonava sax cantabile. L'abbiamo fatto 17 volte. Dopo erano degli studenti, questi qua, che facevano pomeriggio. E allora il più grosso, insomma, il più comando è venuto da me e mi ha detto senti, non vi picchiamo perché siete studenti come gli altri. Non vi picchiamo perché siete studenti come noi. Però non fatevi più vedere. C'è Ornella? Tu nel libro racconti molto di Ornella? Racconto molto? Di Ornella. Ho detto più o meno quello che è successo tra me e lei. Ma c'è un affetto infinito fra voi. Sì, ma io non sono capace. Cioè, tanto per chiarirci su questa posizione, l'hanno presa, l'hanno girata come volevano, eccetera. No, io quando non mi innamoro, comincio a stare con te perché te mi cerchi. Sì, no, non è me, te è un altro. Anche tu, anche tu, dai, perché no? Perché non ho più l'età io, Gino, tu sì, ma io no, io sono vecchio. Allora, io però quando frequento una persona e ci sto per un po', mi innamoro della sua persona, quello che è lei. Quindi non è che quando la mollo e non ci vado più a letto, ma certo, certo, certo. Continua a rimanere una persona che mi piace, che amo. E quindi... Questo vale per tutte le donne che ha avuto le storie, che ha avuto Gino Paoli. Allora, momento memorabile. Ornella presenterà con lui il libro anche in giro adesso, nei prossimi giorni. La chiamiamo? Ornella Vanoni. La mia Ornella. Senza fine. Giuse un attimo. Senza fine. Ornella Vanoni che canta senza fine entrando, guardala qua. Gino Paoli, Ornella Vanoni. Ti vuoi sedere? Ho letto tutto il tuo libro, lo sapevo già a memoria. Ecco, la prima domanda che ti volevo fare è se l'avevi letto. Certo. Ti è piaciuto? Ma è a parte piccoli particolari. Eh? A parte piccoli particolari, sapevo tutto. Dice che sapeva già tutto, a parte piccole cose. Ma è a parte piccoli particolari. Ma è a parte piccoli particolari. Però ti è piaciuto? Ho capito, ho capito. Mi piace dirmi quando ti sei cominciato in questo momento. Eh, l'ha detto, l'ha detto. Ha fatto un servizio fotografico, gli è piaciuto, l'ha detto prima. Un siu, un apache, chi è? Un siu? Chi è questo? Chi è un siu, un apache? Non lo so, un indiano, non lo so chi è. Ha chiesto se è un siu. Un siu, un apache? Cosa c'è? Non lo so. Ma non cambia niente, non cambia nulla, scusa. Non cambia nulla. Qui ci sono un sacco di cose omesse. Meno male, meno male. Come? Alcune cose non si devono dire. Allora, io ti faccio una domanda. Beh, non cominciamo che le dici tu adesso, l'ho capito. Vabbè. Ti faccio una domanda semplice. Ornella, mi raccomando, eh. Ma per carità. No, va bene. No, ma che sai, sti ragazzi qua, io... Per la forte, se no non ti sento. Quando hai cominciato a bere, tu te lo ricordi? No. No, se no, se no, se uno beve non si ricorda. No, prima... Eh, scusa. Eravamo a Vallombrosa e tu hai cominciato a fumare e a bere lì. Io ero ubriaca anch'io. Eh, va bene, qua, meraviglia. E per guarirti dalla sbornia, ti ho infilato in una vasca congelata che a momenti muori. Ti ricordi? Però non sono morto. Però non... Non sei morto. Da lì è nata l'idea della foca. Da lì è nata l'idea della foca. Senti ma, Ornella... C'è nel libro anche il racconto del cielo in una stanza. Tu l'hai letto il libro? Eh, certo. Allora, il cielo in una stanza, vi dicevo prima del pittore, è un'altra di quelle cose magiche di Gino Paoli. Perché ci sono delle cose che non si possono descrivere. Per esempio il momento del piacere, dell'amore. E allora il pittore cosa fa? Descrive tutto quello che c'è intorno. E il cielo in una stanza è la descrizione dell'immateriale, di quello che non si riesce a raccontare. È un poeta Gino. Ma se ti prendi tutti i signori che sono qua, fate spiegare che cos'è il momento dell'amore, che si chiama orgasmo. Certo. E fate spiegare da loro che cos'è. No, nessuno riesce a fare. Vai vedere. Nessuno riesce a fare. Insieme. Cosa puoi fare di una cosa che è assolutamente inesprimibile? Eh. Perché... Puoi descrivere quello che c'è intorno. Descrivi tutto quello che c'è intorno. Non come fosse... Certo. Un cerchio. Ma una... Come si chiama quella? Una spirale. No, quella che c'è nelle conchiglie. Ah, l'ellisse. 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 Non sei d'accordo? No, no, no. Volevo dirti. Prego. E dire, ecco, che il cielo in una stanza sicuramente ha avuto più successo di Senzafine. Ma Senzafine... Che ha dedicato a te. ...è venuta forse una musica migliore. Tanto che Carmichael ti ha scritto e ha detto... Vorrei averla scritta io. Signor Carmichael. Quindi è più bella. Solo che io... Quello che ha scritto Stardust. Sì. Ha detto che era più bella Senzafine. Che tu hai dedicato a Ornella. No, che avrebbe voluto scrivere quella canzone lì. No, dico canzone che è dedicata a Ornella. Sì, ma siccome l'ha cantata... No, ma cantata da lei. L'ho scritta per lei. Certo. Cioè, la storia comincia e va avanti così. Sì. Io sono in una saletta della Ricordi che suona il pianoforte. Ornella arriva, mette dentro la faccia e dice... Tu me la scriveresti una canzone? Io dico sì. Lei chiude la cosa e va a parlare con Nani Ricordi. Dopo un po' torna... Ma hai scritta? E io ho detto sì, l'ho scritta. Infatti l'avevo scritta. In quel momento? La musica. Ma dai. È un ritratto di lei. Canzone... Poi il testo... Infatti le mani grandi Senzafine dove... Ed è una canzone circolare, tra l'altro. Una canzone che non finisce mai. È una canzone che gira intorno a un soggetto. Oggi si dice... Beh, bella eh. Ornella. Voglio dire per esempio... Ornella, scusa, perché tu dici alle ragazze che non devono fidarsi dei poeti? Non fidatevi dei... Lo dice anche lui. No, tu lo dici. Non fidarti dei poeti che... Se vogliamo fare la conclusione, Senzafine, è una canzone che è stata fatta come un ritratto di Ornella. È chiaro? Ed è forse l'unica, no. Un altro paio di canzoni sono dedicate a qualcuno. C'era una stanza... Non è dedicata a Mina. Mina l'ha presa di forza e l'ha fatta. Brava. Brava, bravissima. Io sono arrivata cinque minuti dopo. Sono arrivata cinque minuti dopo. Ah, perché se arrivavi tu cinque minuti prima la facevi tu? Eh, speravo magari. No, ma era già stata fatta eccetera. Ho capito che... Allora, volevo dirti... Sì. Tu ti sei ubriacato. Vabbè, questo l'abbiamo già detto però... Hai fumato. Vabbè, l'acqua gelata. No, ma l'ombrosa lì così. E poi siamo andati al parrucchiere. Tu sei andato al parrucchiere. E il barbiere ti ha detto se la leva o se la tira. Noi due ci siamo guardati. Se la leva o se la tira. Cosa vuol dire? Se la leva o se la tira. Ma cosa voleva dire Ornella? Il parrucchiere. Il barbiere ha chiesto a lui se la leva o se la tira. Ma cosa? Ma che cazzo è la barba? La barba. Eh vabbè, ma lo dice a lui. Quanti anni sono passati? Ma guarda che si fa finta di non ricordare. Lei se la dà con mia moglie a ricordare. Io non mi ricordo un cazzo. Niente. Ma è vero. Si ricorda tutto, 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 tutto. Però tu chiami continuamente sua moglie perché lui non ti risponde. Tanto non risponde. Appunto, tanto non risponde. Chiamo Paola. Ma no, ma loro sono tutte amiche. Bene, bene, meglio. Vuol dire che... Che devo fare? Niente, meglio. Meglio così. Ma non è dovuto né a lei né a quell'altro. Dovuto a te? No. No. È dovuto a mia moglie. Perché lei ha un... Cioè ti spiego come è mia moglie. Per la sua capacità di trasmissione. La sua empatia con tutti quelli che conosce. Un giorno siamo a tavola a mangiare. Sono al telefono. Lei va al telefono e ci sta 20 minuti al telefono. Torna e io dico, chi era? Uno che ha sbagliato il numero. Hai capito? Sai che... Mia moglie la mattina ha 4-5 briefing. Cosa è? Delle linguette qui. Uno con sua mamma che sta a Modena. Uno con sua sorella che sta a Carpi. Uno con la sua amica migliore. Poi con la seconda amica migliore. Poi la terza amica migliore. Praticamente il telefono dura un'ora, un'ora e mezza. Ornella, c'è una domanda che vuol farti Ornella, di. Pesce come una famosa battaglia. Non si capisce. Io evo. Non si capisce. Ma cazzo sei niente. E sempre il cuore batte dall'impazzate per un attimo percepito tutta la sua... Ah, quando ti sei commosso davanti a un pesce. Un pesce? Ah, sì. È bellissimo. Lui ha guardato negli occhi il pesce e si è commosso. Io sono stato un pescatore per tutta la vita. Tanto mi l'ho già raccontato. Sì, ma a me no. Ma a me no. Ho cominciato in una barchetta che aveva fatto mio padre. E andavo con il molentino, no? Sì, con la lenza a pescare. Poi ho fatto nuoto come sport. Ho fatto la scarioni, ho fatto diverse... Nuotatore vero. La scarioni l'ho vinta. Eh, per dire. Come cento metri in mare aperto. E poi avevo come maestro di queste cose, era un certo marcante, che era una dei sette dell'orsa maggiore. E dato che conoscevo mio padre, che era esso i sommergibili, ho lavorato con lui e quello lì mi ha staccato la questione di andare sott'acqua. E tu una volta vai sott'acqua, vedi un pesce... E ho ammazzati una cosa indicibile. Di pesci. Veramente mi sento una merda perché quanti pesci ho ammazzati. Però un giorno c'è questo pesce... Un giorno sono in Meloria e facevo il paperino. Il paperino significa stare attaccato a una fine che ti porta, tu guardi sotto, se vedi qualcosa stacchi e vai giù. E vedo un pesce, un sarago, un sarago faraone, che era una roba così, molto grande, una roba così. Con due occhioni così. Allora... Eh? Con due occhioni così. Sì. Allora a questo punto mollo il paperino e scendo e aspetto di vedere dove va perché il sarago non lo prendi fuori. Se becchi il sarago devi essere molto veloce ma è troppo svelto. E allora aspetti che entri in tana. Sì. Allora in tana io vado giù, guardo dentro la terra e non lo vedo. Poi c'avevo anche il faro insomma. La luce, metti la torcia, metti la... Allora metto dentro la mano e non c'è niente da fare. Finché in fondo, in fondo alla tana che l'ha fatta così, in fondo c'era il pesce. L'ho preso, l'ho tenuto così, c'aveva il cuore che batteva come... proprio disperato proprio. Ho detto io non gli sparò più ai pesci. E smesso di pescare. Ornella! Eh? Voi avete fatto dei tour insieme memorabili. Tu hai detto che a 90 anni vorresti rifare un tour insieme. Non lo voleva mica fare il tour con me. Beh vabbè. Ma giuro che non lo voleva. Non lo volevi fare? No. Lei ha sempre voluto fare tutto, io l'ho mai voluto. Eh, cioè questo che sia chiaro. L'abbiamo fatto, abbiamo... Possiamo vedere un po' di immagini un attimo? È andata pure bene. Eh, ma tanto bene. Guardiamo queste immagini. Molto bene. Molto bene. Due leggende della musica italiana. Ornella Vanoni e Gino Paoli. A me piacerebbe moltissimo che venissi un'altra volta a continuare questo racconto con Ornella. Ti va di tornare? No, possiamo portare anche un pianista. Ma sì, ma magari. Portiamo due o tre strumenti. Ma lo facciamo? Ci mettiamo con due microfoni e facciamo un po' di roma. Lo facciamo? Sì, quando vuoi. 26 novembre. Volevo chiedere... Te lo dico adesso. 26 novembre. Vabbè. 26 novembre. Domenica... Parlando con Gino. Domenica 26... La chiede la mia moglie. Vi aspetto. Lo facciamo. Poi uomini, sempre parlare... Ornella, ma tu hai detto che a 90 anni volevi rifare il tour con Gino. Un concerto con la moglie. Ma che tour faremo? Un concerto. Lo fai? A Genova. Lo fai Gino? A Genova. Ancora una data, un concerto con Ornella? Ma sì che viene. Adesso, per i 90 anni? Boh. Devi sapere una cosa. Io non ho mai cercato di qualcosa. Non ho mai voluto fare il cantante. Ma è un'idea sua. Non ho mai voluto scrivere canzoni. Non ho mai voluto fare qualissiasi di queste cose. Io sono esattamente l'uomo che sta... Sul divano. Sotto il melo e aspetta che la mela cassa. Ma la mela ha detto... No, vado sui. Ma la mela, o la dì, tu vuoi fare un concerto? Non ho la mela, la mela. Eh? Io sono la mela. Lei è la mela. Ha detto che vuole fare il concerto. Allora, una domanda... Adesso, per i 90 anni. Una domanda. Eh? Ma tu perché mi hai rifilato? Vuoi fare il concerto per i 90 anni? Mi dici perché mi hai rifilato Sandrini. Eh? No, vabbè, adesso no. No, la prossima volta. Questa qui è lunga. La prossima volta la facciamo. No, scusami, ma io... Si può litigare con lei? No, no, si può. Ma tu perché mi hai rifilato Sandrini? Perché era il più grande pianista che c'era in Italia. Ecco. Perché c'era un breve coglione e l'hai dato a me. Si è sparato. Un passo, un passo. Sergio Sandrini era uno che lottava. Era 30 anni. Con le ottave così, una mano. Ornella, ci rivediamo il 26 novembre? Perché? Come mai? No, perché ha detto che vuole cantare qualcosa qua con te. Lo organizziamo? Sì. È dal vivo. Siamo dal vivo, Ornella. Sì, va bene. Se tu che hai detto che vuoi fare un concerto. Lo facciamo. Ma un concerto, non una... Ma una canzone, qui, insieme. Nel mondo questo è solo che è il tempo per stare. Ma dai, c'è tutto. Ci sono io. È un tempo di merda. Dai, ci vediamo il 26 novembre. Grazie. Ecco, vedi. Cosa farò da grande? Gino Paoli, Bonpiani, editore. Ornella, noi ci vediamo domenica prossima. Ci vediamo domenica prossima. Devi sapere una cosa. Sì? Che quando... Gino non è che parla molto. Quando attacca a parlare... Guarda, io e Gino siamo amici da tanto tempo. Sì, ma tu non lo conosci. No, come te no. Se attacca a parlare non smette. Eh, da quella parte. Grazie. Grazie infinite. Grazie di qua? Di là, di là. Gino Paoli, Ornella, Vanoni! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.